Almeno 25.000 persone hanno invaso ieri le vie del centro di Bergamo per assistere alla sfilata di mezza quaresima, che era stata rinviata di una settimana a causa del meteo. A questa 86esima edizione, organizzata dal Ducato di Piazza Pontida, hanno partecipato 81 tra carri e gruppi ed oltre 2.000 figuranti. La classifica dei carri è stata vinta da Il Paese dei Giocattoli, di almeno San Salvatore, secondo posto per fuggiti irreparabile Tempus, realizzato dalle parrocchie di Castione Bratto e Dorga. Al terzo posto si è classificato Benvenuti in Lapponia, di Carobbio degli Angeli, quarto posto per il Carosello, proveniente dalle fiorine di Clusone, che aveva vinto il Carnevale clusonese. Nella classifica dei gruppi, il primo posto è andato a Parata, Stati Uniti d'America, proveniente da Luzzana. Il clou della manifestazione si è avuto in Piazza Pontida dopo il tragitto per le vie del centro, con premiazioni, il tradizionale rasgamento della Egia e i fuochi d'artificio. Ed ecco un buonissimo caffè! Il merendero! E le luce, le luce, le proprie luce! Le lì, le la, le la che l'aspettava! Eccolo lì! Veramente ogni anno ci stupiscono questi personaggi delle fiorine di Clusone, che sono sempre tanti, c'è qui tutta la frazione! Fiorine qui a Bergamo! Eccolo! esatto! Sì! Grazie a tutti.